E' un volto popolarissimo della TV, è da tempo residente a Monaco ed è stato eletto presidente del Comites. Con Ezio Greggio abbiamo parlato dei progetti del Comitato degli italiani residenti all'estero e del prossimo Film Fest della Comidì. Ma guarda, i progetti sono tanti e anche le soddisfazioni, perché io sono presidente da quest'anno, dal 2015 e sono contento che immediatamente ci siamo dati da fare e abbiamo cercato di realizzare una serie di iniziative che avevamo in mente. La prima fra tutte che ti avevo anche già raccontato in anteprima quando appunto avevo accettato questa carica è stata il fatto di dare una mano alle famiglie italiane di Monaco che magari hanno qualche problemino economico e quindi hanno bisogno di un'assistenza un po' maggiore. La seconda è un argomento che ci sta molto a cuore e che stiamo seguendo con il nuovo ambasciatore italiano, con Massimo Lavezzo Cassinelli e con l'ambasciata e il Ministero degli esteri riguarda le pensioni degli italiani che purtroppo subiscono delle ritenute che noi riteniamo dovrebbero essere tolte, come già accade per altri paesi europei e non. Quindi ci sta molto a cuore questo argomento e lo stiamo seguendo. Poi ci sono tante altre iniziative, intanto stiamo mettendo appunto un nuovo sito che permetterà agli italiani residenti, anche a quelli che arrivano nuovi, di trovare informazioni utili che riguardano l'attività, la vita qui nel Principato. C'è la festa di Natale che stiamo organizzando e invito tutti gli italiani residenti, vi invito di portare la carta di residenza perché è importante perché poi lo spazio non è tantissimo e quindi per poter entrare è determinante avere la carta di residenza. Sarà una piccola grande festa, molto familiare, molto tranquilla e faremo un brindisi appunto con l'ambasciatore, ci sarò io, ci sarà il vescovo, autorità del governo di Monaco e saremo contenti di scambiarci gli auguri e soprattutto sperare che il 2016 sia un anno migliore di questo 2015 che è finito anche in un modo un po' particolare. Il 2016 avrà un Film Fest della Comedia a marzo, su quale state già lavorando? Stiamo lavorando appunto per la primavera, per questa nuova edizione del Monte Carlo Film Festival, sarà la tredicesima edizione, l'anno scorso è stato un grande successo, abbiamo presentato pensa alcuni film che sono usciti quest'anno, sono usciti poi in primavera, in estate, in autunno del 2015, noi l'abbiamo fatto nel 2014, per noi una piccola grande soddisfazione e abbiamo aiutato alcuni film, oltretutto che non avevano distribuzione né in Italia né in Francia, a trovare la distribuzione, quindi per noi del Monte Carlo Film Festival una grande soddisfazione. E mille auguri a tutti. Tanti auguri, tanti cari auguri a tutti gli italiani residenti a Monaco di un 2016 meraviglioso, pieno di salute e successo. Un abbraccio. Ricordiamo che la festa degli italiani è in programma per giovedì 10 dicembre alle 18.30. Sarà uno scambio di auguri con un semplice brindisi all'auditorium Regnier 3. L'ingresso verrà solo dietro presentazione della carte de séjour. Grazie. Grazie. Grazie.